Vi meritate fidanzate che fanno zumba, l'ansia cieca per la prova costume, le barrette ipocaloriche fragole e cartone, i melanomi per troppe lampade abbronzanti. Vi meritate le rate del mutuo e della macchina, il costo mensile dell'abbonamento in palestra, le domeniche ad H&M, la pizza da asporto davanti al derby. Vi meritate tutti i comici di coloro do caffè, i film cattomoralisti della Rai, le abbaglianti ipocrisi hollywoodiane, i neomelodici. Vi meritate i libri di Moccia e Fabio Volo, i settimanali scandalistici patinati, le risposte del cazzo di Yahoo, U-Porn che vi si inchioda. Vi meritate tutto il peggio, perché il meglio vi atterrisce. Sulla porta di casa mia c'è un cartello che declama, non far uscire il gatto, non far entrare gli sbirri, evitate di bussare, tanto non vi apro. Grazie. Grazie.